buongiorno e bentornati a questa nuova puntata di 12 30 cev oggi dedicata a un tema davvero molto importante che spero faccia riflettere un po tutti noi che quello della memoria ne parliamo con daniele ferrari attore buongiorno buongiorno a voi con orazio nevoloso sindaco di isola delle femmine buongiorno e con giuseppe catania del consorzio cev e sindaco di mussomeli buongiorno buongiorno a voi inizio da lei ferrari perché ci aiuta un po inquadrare il tema visto che questa puntata nasce dall'incontro con un suo spettacolo di teatro civile che celebra i 30 anni della strage di via d'amelio e ci vuole parlare e dire com'è nato questo progetto sì allora questo spettacolo che si intitola 57 giorni il conto alla rovescia di paolo borsellino è scritto e diretto da michele angrisani e nasce cinque anni fa in realtà per ricordare il 25esimo anniversario della strage di via d'amelio questo spettacolo quest'anno appunto vuole riportare l'attenzione sui 30 anni da quel 1992 dove appunto ci sono state le stragi prima di capaci e poi di via d'amelio infatti per questo il titolo 57 giorni il conto alla rovescia di paolo borsellino dove infatti andiamo a parlare di questo conto alla rovescia di questi 57 giorni che parlo partono appunto dalla strage di capace arrivando al 19 luglio alla strage di via d'amelio dove persero la vita paolo borsellino e gli uomini della sua scorta è uno spettacolo che vuole rappresentare e vuole ricordare questa purtroppo triste vicenda sono passati 30 anni sì però allo stesso tempo è un argomento ancora molto molto attuale purtroppo e allo stesso tempo un argomento ancora diciamo in cui ci sono ancora molte ombre di cui ancora non si capisce ancora tutta la verità nella presa che torni il sindaco catania che vedo che è scomparso eccolo qua buongiorno sindaco nevoloso tutto il paese venne sconvolto da quegli eventi ricordiamo tutti anche chi era molto piccolo ma sicuramente le vostre comunità sono state però particolarmente colpite cosa è cambiato da allora per voi io ho ancora negli occhi il fumo e che si alzava dall'autostrada di quel pomeriggio ero un ragazzino di 12 anni stavamo giocando un amichevole con una squadretta di palermo nel vicino campo eravamo in linea d'aria a 500 metri dal fatto dal dal luogo dell'esplosione e ricordo perfettamente i i volti ehm disorientati dei nostri genitori che entrarono all'interno del campo eh non non riuscendo a capire quello che stesse succedendo presero i bambini e si affrettarono a a porci al riparo ecco eh di quei giorni rimane eh nei miei occhi quella 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 colonna di fumo nera e quel pennacchio eh che poi avrebbe svelato da lì a qualche ora il terribile attentato che aveva visto eh morire il giudice Falcone eh la moglie e gli uomini della scorta eh ecco come come bambino ecco il ricordo che ho da bambino e e questi volti disorientati dei genitori che solitamente sono invece dei volti sicuri che sanno quello che sta succedendo sanno trasmettono sicurezza e invece c'era c'era tanta 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 paura. Ecco sentirle parlare vengono veramente i brividi perché sono sono veramente scolpiti nella memoria di ognuno di noi eh questa memoria è ancora viva e forte grazie all'esempio di chi eh tutti i giorni si impegna a non dimenticare all'esempio di Falcone all'esempio di Borsellino e iniziative come quella del teatro civile sindaco Catania chiedo a lei secondo lei sono importanti possono essere possono servire a mantenere viva la memoria? Io ritengo assolutamente di sì eh penso che quegli attimi siano stati uno spartiacque per per la Sicilia e per il popolo siciliano eh si è avuto da quel momento in poi c'è stato un sussulto nelle coscienze eh che ha portato a un impegno sempre più forte ma soprattutto un impegno sempre più visibile eh per cercare di contrastare ehm quello che è il fenomeno mafioso eh un impegno orientato non solo nel contrasto del fenomeno all'interno delle istituzioni ma anche partendo dal dal basso dalla società civile quindi dalle singole iniziative e ovviamente il teatro è uno degli strumenti secondo me potentissimi importanti per far riappropriare di questi temi i giovani che molto spesso magari sono distratti da altre tematiche sono distratti da altri eh da altri avvenimenti e che attraverso il teatro che se volete uno strumento antico ma sempre attuale riescono a eh accogliere quelle sensazioni quei momenti quell'impegno eh soprattutto eh delle sensazioni fortunatamente devo dire lontano da dal loro modo di essere eh e anche per ragioni anagrafiche eh e quindi io ritengo che il teatro sia assolutamente uno strumento che vada eh promosso eh il teatro d'impegno il teatro sociale il teatro etico è uno strumento che assolutamente merita di essere promosso. Ecco Ferrari lei si assume una grande responsabilità facendo questo spettacolo questo genere di di spettacoli cioè scegliendo il teatro civile perché appunto ho la responsabilità di tramandare quello questa memoria e la domanda la rifaccio anche lei ma è retorica l'arte può aiutare in questo senso aiuta e quanto è importante forse quanto aggiungo quanto è riconosciuto questo ruolo dell'arte? Eh allora come come si diceva è importante riportare il messaggio e continuare a portare questo messaggio anche in riferimento soprattutto al fatto quando ci confrontiamo con delle classi di studenti delle scuole superiori che ovviamente eh non c'erano nel 1992 perché sono nati dopo e quindi è sempre un ideale riportare l'attenzione su quella triste pagina della nostra storia. L'arte è importante ma l'arte intesa a 360 gradi nel senso del teatro della musica tutto ciò che può essere utile per ricordare per portare avanti questi messaggi messaggi fatti con impegno e con secondo me devono trovare lo spazio adeguato e devono trovare la possibilità di esprimersi e cosa che purtroppo sappiamo tutti in quest'ultimo periodo non è potuto accadere come è voluto per diversi motivi e quindi nell'anno del 30 anni nell'anniversario dei 30 anni è insomma si spera che si riesca a portare questo messaggio con più efficacia possibile ecco diciamo. Per portare questo messaggio bisogna anche far girare questi eventi portarli nei territori di qui la domanda un po' spinosa che è quella del il ruolo degli enti locali dei comuni del settore cultura dei comuni che sappiamo benissimo fanno il loro per tutto quello che è possibile per promuovere la cultura c'è anche un problema di risorse perché insomma organizzare eventi sappiamo tutti che costa e è possibile conciliare questi due aspetti la necessità di mantenere viva la memoria e comunque di offrire un'offerta culturale importante e dall'altro lato però fare i conti con il bilancio degli enti locali e lo chiede al sindaco Nevoloso. Innanzitutto due premesse sono fondamentali e sono riprendo gli interventi del collega Catania e di Daniele Ferrari. Allora la presa di coscienza di un nuovo modo di essere siciliani di quegli anni cioè il siciliano non è più quello stereotipo del mafioso il siciliano vero diventa Giovanni Falcone diventa Paolo Borsellino quello diventa il modello di essere siciliani e la voglia di riscatto e quindi questo è il nuovo sangue che scorre nelle venede siciliane. Poi l'arte l'arte in tutte le sue forme penso a una canzone famosissima di Moro e penso ai film impegnati sulla mafia, penso al teatro e prendere coscienza che questi sono i fattori determinanti per testimoniare alle nuove generazioni che conoscono questi eventi soltanto dai libri di storia che sono figli, sono figli anche loro delle scelte fatte in quegli anni dove il popolo siciliano si è ribellato. Le risorse mancano per qualsiasi cosa quindi mancano anche le risorse per dar sfogo a tutte le iniziative che vertono nell'ambito della cultura. Tante volte il sindaco Catania mi è testimone, i comuni collaborano con le associazioni di prologo, le associazioni teatrali, le associazioni di cultura tentando di dare quel minimo di logistica e devo dire che sono degli artisti che tante volte chiedono o poco o niente, chiedono soltanto un luogo dove poter dare testimonianza della loro arte. Quindi la richiesta probabilmente andrebbe indirizzata a enti di livello superiore, intendo la regione, intendo lo Stato, noi comuni facciamo quel che si può. Quest'anno per esempio a Isola delle Femmine si sta tentando di avviare una rassegna teatrale proprio all'interno del Giardino della Memoria, luogo simbolo del luogo delle stragi, ma luogo simbolo anche della rinascita di quel comprensorio. Sindaco Catania, un po' la stessa domanda anche a lei aggiungendo una cosa. È o dovrebbe essere prioritario questo aspetto della promozione della cultura e della memoria per le pubbliche amministrazioni nei limiti del possibile di quello che si può fare? Sì, in realtà abbiamo una responsabilità ancora maggiore, nel senso che in genere gli amministratori ovviamente hanno anche la responsabilità di mettere in piedi un calendario di eventi che sia un calendario che possa andare bene alla propria collettività, alla propria comunità. In un periodo come questo in cui le risorse sono davvero centellinate, la responsabilità in più è di mettere in piedi un calendario che abbia anche una qualità importante e per qualità intendo non solo la qualità della performance degli artisti ma la qualità in termini di ovviamente dei contenuti che negli eventi vengono organizzati. In questo caso specifico io credo che quel periodo sia stato il periodo che non esito a definire di risorgimento per la Sicilia. Malgrado la drammaticità di quegli eventi quella drammaticità ha fatto sì che il popolo siciliano prendesse piena consapevolezza che quel meccanismo quasi sotterraneo di connivenza tra politica, tra malaffare, tra non solo politica bisogna riguardare quegli eventi con una lente ancora più accurata, tanti aspetti sono ancora aperti, lo accennava Dario e Davide nella sua apertura ancora, non tutto quello che riguarda quel periodo è emerso in tutta la sua chiarezza. Quindi ritengo che portare a continua memoria questi aspetti serve comunque ad accendere il focus su tematiche di questo tipo ed evitare che magari cadano nel dimenticatoio di tutti. Quindi questo ritengo sia un grande privilegio che l'arte e eventi di questo genere possono mettere in campo e la grande responsabilità degli amministratori è che questo avvenga sempre con con più forza, con più efficacia e anche con maggiore diffusione. Nel ringraziare e concludere chiedo a Ferrari se può ridire a favore di telecamera il nome del titolo dello spettacolo. Volentieri, allora è 57 giorni, il conto alla rovescia di Paolo Borsellino, scritto e diretto da Michele Angrisani con Daniele Ferrari. Noi metteremo nei commenti ai nostri post con questa trasmissione le informazioni che potremo dare su questo spettacolo così l'invito ai sindaci che ci ascoltano e a tutti i nostri soci è di invitare questo spettacolo nelle loro terre, Sicilia ma non solo, a nord, a sud, ovunque perché è importante ed è una cosa come ho detto all'inizio che ha segnato la storia di tutto il nostro paese e quindi è giusto e importante mantenere viva questa memoria concludo con questa parola che ho forse abusato oggi però è importante trasmettere questo messaggio. Io ringrazio Daniele Ferrari per il suo contributo e per il lavoro che ha fatto, ringrazio il sindaco di Isola delle Femmine Orazio Nevoloso, grazie per essere stato con noi, è già stato anche nostro ospite in passato e ringrazio Giuseppe Catania del Consorzio CEVE, sindaco di Mussomeli. E a tutti voi d'appuntamento alla prossima puntata di 12.30 CEVE, a presto. Grazie, grazie a tutti.